Numero 5. Questo compressore d'aria è l'ideale per chi cerca la massima velocità e potenza. Con il suo motore bicilindrico AV da 2 HP, garantisce una ricarica rapida e una potenza straordinaria. Il serbatoio da 50 litri e la portata in ingresso di litri al minuto permettono un utilizzo prolungato senza interruzioni. Inoltre, la pressione massima di 8 bar lo rende adatto a molteplici utilizzi, sia domestici che professionali. Grazie alla maniglia e alle doppie uscite d'aria, è possibile utilizzarlo in modo comodo e versatile. Inoltre, i dispositivi antirumore e antivibrazione lo rendono silenzioso e stabile durante l'utilizzo. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 4. Questo compressore verticale professionale è una vera e propria macchina da lavoro che ti permetterà di ottenere risultati sorprendenti in ogni tua attività. La sua compattezza lo rende facile da trasportare e da utilizzare, ma non risparmia in termini di prestazioni. Grazie alla sua struttura in acciaio, il serbatoio è protetto da eventuali urti o danni, garantendo una maggiore durata nel tempo. Ma la caratteristica che lo rende unico è l'utilizzo di un potente lubrificante, che lo rende praticamente autonomo per quanto riguarda la manutenzione, risparmiandoti il fastidio di doverlo costantemente rifornire d'olio. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 3. Il prodotto che si sta per descrivere ha già conquistato il cuore di numerosi utenti grazie alla sua potenza e versatilità. A prima vista, può sembrare solo una comune compressore d'aria, ma in realtà le sue funzionalità si estendono ben oltre. Con una potenza di 1100 Watt, pari a 1.5 HP, questo modello è perfetto per azionare strumenti ad aria compressa di ogni tipo, dalla semplice pistola per gonfiare gli pneumatici, fino alle più complesse pistole sabbiatrici. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 2. Per chiunque stia cercando un attrezzo affidabile per le proprie esigenze professionali e domestiche, il prodotto in questione è sicuramente da tenere in considerazione. Una delle sue più grandi qualità è la combinazione perfetta tra praticità e potenza, rendendolo ideale sia per lavori di soffiaggio che per svariati altri utilizzi come gonfiare, lavare, irrorare e pulire. Non sorprende che le recensioni riguardanti il marchio di fabbrica siano sempre positive, poiché questo prodotto è uno dei migliori disponibili sul mercato. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 1. Ma quanto sono vantaggiosi i compressori verticali professionali? Con la loro versatilità, si adattano perfettamente sia all'uso domestico che a quello professionale. Grazie al pratico rubinetto di scarico, la manutenzione diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, le ruote in gomma antivibrazione e i piedini riducono al minimo il fastidioso rumore tipico dei compressori. E non è finita qui. Il serbatoio è garantito per ben 10 anni contro la ruggine, quindi niente preoccupazioni per il futuro. Scegliendo un compressore verticale professionale, si ottiene una soluzione affidabile e di alta qualità ad un prezzo conveniente. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Grazie a tutti.